...che la politica impone atteggiamenti responsabili ed educativi. Franco Landella, ex sindaco di Foggia, è stato arrestato a maggio del 2020 per corruzione e tentata concussione. Insieme alla moglie, impiegata presso il comune, era sostanzialmente il braccio destro del marito, secondo la procura, anche lei coinvolta nel giro di mazzette. Non ci sono. Pronto? Parlo con l'ex sindaco Franco Landella? Sì, io e mia moglie siamo innocenti. C'è un processo in corso. Lei avrebbe chiesto una tangente di 300 mila euro per l'illuminazione? No, sono dichiarazioni che fa l'accusatore. Sa benissimo che abbiamo contestato. È entrata o no la mafia in comune a Foggia? Per me non è entrata mai, perché non c'è un atto che dimostri che è entrata nella mafia in comune. Il comune è stato sciotto quando era sindaco lei, voglio dire. Io lo dico al prefetto, io lo dico al prefetto.